sempre su amazon quindi non chiedetemelo praticamente sono venuta a conoscienza grazie alle mie guardie che vedono tutto che c'è della gente che mi spia mentre sono in casa allora sappiate che io ho comprato un binocolo come fate voi e sappiate che la prossima volta che vi vedo vi denunzio come la mettiamo? allora io domani mi apposto a vedere un po' il cazzo che fate voi no? che io poi dico cosa pensi di vedere che non si vede niente cioè ho già tirato su non so neanche quanti leilandi di più di 8 metri cioè io non ho problemi ragazzi io li faccio anche più cioè li ripianto anche più lunghi più alti le piante cioè vabbè io uomo avvisato e mezzo salvato prossima volta vi denuncio grazie a tutti